ciao ragazzi sono sempre il boss dei monopatti oggi sto andando in giro qua per il porto con il mio goped ex termico ma in elettrico e niente poi vi ricordo anche di iscrivervi ai seguenti canali di youtube ovviamente non si paga nulla e accendete la campanella meno ne vedete sempre delle belle e poi in più canale facebook mondo elettrico italia noi ci vediamo dopo il 20 agosto se avete bisogno non c'è problema ok bella lì guardiamo insieme ok come potete vedere il mio goped è sempre qua sono qua all'entrata del porto vedete adesso andrò in giro da quella parte di là sperando di non cadere guardate il faro che bello non è tanto grande questo faro è però è fighissimo guardate come potete vedere ma c'è una pista ciclabile bellissima ora ovviamente tengo il telefono in mano sperando che non mi cada dentro il canale questo è il canale che le barche le imbarcazioni come potete vedere ok niente io vado col mio goped e va bene vediamo un po lo tengo in mano e vi faccio un po vedere il tutto che non mi cada ok andiamo immagini non è che sono al massimo della vita giusto per farvi vedere vado piano piano perché ripeto io non so cosa sto inquadrando ma non c'è neanche le banchine mamma bene ragazzi sperando di non cadere dentro in acqua perché sono un bagnino però insomma guardate che meraviglia guardate guardate che figata ragazzi mannaggia davanti alla camera guardate che freno un attimo quindi non si è visto nulla comunque vado così vi faccio solamente vedere guardate che figata guardate che sballo ebbene dai questo è tutto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale ai seguenti canali adesso questo parcheggio qua perché la paura che magari vado dentro quindi non ho voglia di andare a recuperare il monopattino e basta va bene così ragazzi questo è tutto iscrivetevi ai canali tante gratuite non vi costa niente ciao ragazzi un abbraccio e buona estate a tutti dal boss del monopattino ciao